La questione di Dottor Rinaldi ne trattasse anche in un contesto più ampio di cultura della valutazione, cioè a che punto siamo? Da quello che ha detto lei sembrerebbe che avete fatto un lavoro notevole di creazione di professionalità o perlomeno di corroborare la professionalità che già avete individuato, quindi negli uffici di supporto. Ma queste persone che sono state formate da voi poi sono mosche bianche dell'amministrazione oppure si inseriscono in una cultura che tutti ospichiamo che l'amministrazione abbia più evoluta, anche una cultura che accetti la valutazione e che non la veda come una punizione, ma che la veda anche come uno strumento per lavorare meglio. Ecco, questa è la domandona. La sua domanda è complessa e lei lo sa bene, apre una serie di problematiche ulteriori che non si potrebbero sicuramente discutere in questo breve tempo. Quello che posso dire è che l'esperienza di tante pubbliche amministrazioni è stata riportata in questa regione sarda dove lavorano circa 4.500 dipendenti più 1.500 relativi agli enti strumentali. Non dimentichiamo che all'ufficio del controllo interno fanno capo anche gli enti strumentali della regione. Ecco, quindi la scelta è stata quella di inserire delle cellule che pur non avendo professionalità in termini di diritto amministrativo pure semplice, e questo è un grande svantaggio, avevano professionalità nel campo del controllo di gestione. Quindi questi semi che sono stati introdotti nell'amministrazione regionale hanno il compito di diffondere la cultura di controllo che avevano già come bagaglio culturale ma dall'altra parte sono stati soggetti ad un profondo lavoro di adattamento alla situazione del pubblico che come sappiamo è diversa da quella del privato. Ecco quindi che il sistema dei controlli si inserisce nelle direzioni generali e cerca di specializzarsi per settori, per aree, perché 18 direzioni generali con tutta una serie di enti che dipendono da queste vuol dire a lato pratico avere non una holding con diverse società che fanno capo a questa entità ma avere 18 holding che a sua volta necessitano di un consolidamento sotto il profilo strategico e anche gestionale. Ecco quindi i controlli nelle regioni sono forse più simili in termini di problematiche ai controlli dello Stato, cioè a quelli che si svolgono nei ministeri piuttosto che a quelli che si svolgono negli enti locali. Ecco, dottor Ferrante, un po' rilasciando a quello che diceva adesso il collega dottor Rinaldi Vorrei chiedere a lei, mi sembra che lei ci abbia detto onestamente che qualche problema nell'applicazione del principio della separazione o distinzione di poteri c'è tuttora ma è un problema generale italiano, però mi è sembrato di cogliere comunque insomma anche aspetti di evoluzione positiva, insomma la lasciano lavorare insomma mi sembra che comunque il quadro sia decisamente di miglioramento ecco ma questa un po' chiedendole una valutazione generale generale della pubblica amministrazione questa cultura evoluta che un po' qualche volta come dire prendiamo dal privato ma insomma però in un contesto che anche lei è delineato molto differente con peculiarità con la pubblica amministrazione cioè possiamo dire che si sta andando avanti, che non si è fermi oppure sono più le preoccupazioni di dire beh insomma pensavamo che si lavorasse un po' più speditamente guardi dottore io come lei sa vengo dal privato perché ho fatto il direttore di banca e quindi ho cercato di mutuare quello che potevo da portare all'interno dell'amministrazione in questo caso l'amministrazione provinciale non è facilissimo, è molto difficile perché il taglio organizzativo è completamente diverso e anche il personale è completamente diverso cioè la mentalità del dipendente privato è inutile che ce lo nascondiamo è diversa questo non vuol dire che sono più bravi i dipendenti privati anzi per certi aspetti ho trovato molto più preparati i dipendenti pubblici i quali sono chiamati ad aggiornarsi sulle norme, sulle leggi così che gli dipendenti privati gli basta leggere la circolare che emana la propria direzione generale e sono a posto mentre il pubblico è portato anche perché c'è una responsabilità diretta mi riferisco principalmente ai dirigenti ad approfondire perché poi rischia sulla propria pelle allora secondo me sta migliorando molto almeno per quello che io posso vedere nell'amministrazione alla quale sono il direttore generale sta migliorando, io non voglio dire adesso che sta migliorando perché è arrivato Ferrante, non è assolutamente vero però per esempio il primo passo che io ho fatto per poter avere un rapporto valutativo nei confronti della dirigenza molto diverso da quello che era in precedenza è stata quella di valutare sì i risultati e gli obiettivi in base ai famosi criteri di economicità, di efficienza, di efficacia ma ho voluto lasciare un aspetto di questo premio perché poi si traduce in denaro hai lavorato bene, io ti premio quello che succede anche nel privato ma ho voluto dare anche una valutazione ai rapporti interpersonali e alla collaborazione reciproca perché questo è l'unico sistema e un po' mi riallaccio al discorso che faceva prima il dottore per far sentire tutti sulla stessa barca perché se no la regione capisco 6.000 dipendenti con presidenti strumentali enormi la provincia di Cagliari una briciola vicina alla regione però era necessario che tutti si sentissero sulla stessa barca quindi per poterli farle sentire parte integrante di una stessa amministrazione voglio dire non è che l'assessorato alla pubblica istruzione può andare per i fatti suoi e non collegarsi con un altro assessorato per esempio la cultura che può avere delle interferenze quindi per far questo ho dato una valutazione anche su quell'aspetto con il nucleo di valutazione di collaborazione oltre che di efficacia, efficienza e obiettivi per far sì che tutti collaborassero tra loro e io li potessi monitorare queste collaborazioni che poi nella sostanza si traducevano anche almeno per una piccola parte in un premio finale che è il premio di produttività vorrei una battuta del dottor Rinaldi in tema di ottimismo e pessimismo rispetto alla situazione e ai progressi che noi tutti ospichiamo nella gestione delle pubbliche amministrazioni è sicuramente una battuta di ottimismo per quanto riguarda la regione della Sardegna in quanto un gruppo di persone abbastanza vasto sta lavorando per porre in essere queste nuove metodologie cioè la cultura del risultato la cultura della valutazione che come sappiamo va a sostituire una cultura precedente che per tanti anni è stata basata sulla legalità dell'azione amministrativa allo stato attuale abbiamo allo studio avanzato un sistema di indicatori dei nostri programmi operativi annuali che costituirà una validissima base per l'impianto di sistemi evoluti di controllo e valutazione strategica e valutazione dei dirigenti Beh va bene, allora possiamo chiudere qui mi pare che il quadro sia non dico completo però ci fornisca tutti gli elementi per dire che si sta lavorando e che evidentemente poi il cittadino in ultima analisi a vedere quanto tutte queste strumentazioni le azioni di controllo poi si traducono i migliori servizi che rende la pubblica amministrazione però voglio dire c'è da fare un esercizio di comunicazione ecco che a volte viene sottovalutato nelle pubbliche amministrazioni mi fa piacere poi che dal dottor Ferrante anche per la sua esperienza del privato io lo voglio rimarcare ho trovato molta preparazione anzi molta più preparazione nella pubblica amministrazione rispetto alla privata adesso io lo voglio rimarcare questo non so se ingenerosamente verso qualcuno però insomma voglio dire questo ci dà anche maggiori responsabilità rispetto a quello che le pubbliche amministrazioni devono fare però ci dice che possiamo guardare al futuro con maggiore motivazione rispetto agli impegni che tutti noi mettiamo per migliorare la pubblica amministrazione grazie grazie